Settimo giorno Esso vivente del mio cuore pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità nella vita futura. Nessuna finirà nel fuoco dell'inferno. Difenderò in modo particolare ciascuna di loro nell'ora della morte. Misericordiosissimo Gesù, il cui cuore è l'amore stesso, accogli nella dimora del tuo pietosissimo cuore le anime che in modo particolare venerano ed esaltano la grandezza della tua misericordia. Queste anime sono forti della potenza di Dio stesso. In mezzo ad ogni genere di tribolazione e contrarietà avanzano fiduciose nella tua misericordia. Queste anime sono unite a Gesù e reggono sulle loro spalle l'umanità intera. Esse non saranno giudicate severamente, ma la tua misericordia le avvolgerà nell'ora della morte. L'anima che esalta la bontà del suo Signore viene da Lui particolarmente amata. È sempre accanto alla sorgente viva ed attinge la grazia dalla divina misericordia. Eterno Padre, guarda con occhi di misericordia alle anime che esaltano e venerano il tuo più grande attributo, cioè la tua insondabile misericordia, e che sono racchiuse nel misericordiosissimo cuore di Gesù. Queste anime sono un raggelo vivente. Le loro mani sono colme di opere di misericordia. E la loro anima è piena di gioia e canta all'Altissimo l'Hilno della misericordia. Ti susslico, oh Dio, mostra loro la tua misericordia, secondo la speranza e la fiducia che hanno posto in te. Si adempia in essi la propria promessa di Gesù che ha detto loro Le anime che onorevano la mia insondabile misericordia, io stesso le difenderò come mia gloria durante la vita, ma specialmente nell'ora della morte. Segue la coroncina alla Divina Misericordia